Allora, eccoci qui e benvenuti in un nuovo video. Oggi ripartiamo da dove ci siamo fermati. Sostanzialmente siamo arrivati a discutere dell'accoppiamento che c'è tra un sistema ad NDOF. L'accoppiamento che c'è tra un sistema ad NDOF è quello dato appunto dalla molla di rigidezza di accoppiamento, quindi K2. Cioè noi abbiamo una situazione del genere. In questo esempio qui è un esempio a 2 DOF, quindi a 2 gradi di libertà. Ma la cosa si generalizza quando consideriamo un sistema ad N gradi di libertà. Perché questi sistemi saranno accoppiati con N-1 sostanzialmente rigidezze. In particolare, diciamo, questa relazione vale sul fatto che se io conto questo come un nodo, la massa come un secondo nodo e questo come un terzo nodo, gli elementi sono sostanzialmente collegati da, queste masse sono collegate da N-1 elementi. Quindi per N nodi, incastro, massa 1 e massa 2, esistono N-1 elementi. Pochino come per N punti ci sono N-1 intervalli. Ok, quindi abbiamo... Però in generale, se vogliamo dire, di là tutto, qui l'unica molla di accoppiamento è quella K2, non quella K1 perché K1 lega la massa M1 all'incastro ma non partecipa, diciamo, allo spostamento, alle oscillazioni all'incastro. In quanto è inteso un vingolo a, diciamo, rigidezza infinita. E inoltre, quindi, abbiamo detto che per quanto riguarda questi sistemi, diciamo, a N e off, sono governati sostanzialmente da un'equazione di tipo matriciale. Dove all'interno di questa equazione, adesso noi l'abbiamo particolarizzata per un caso non smorzato, ma può esserci anche lo smorzamento. Quello che vedremo d'ora in avanti sarà sempre lo smorzamento di tipo esteretico. Ciò che significa, e lo vedremo adesso proprio nell'analisi modale, che quella K, la matrice K, sarà una matrice di rigidezza complessa. Quindi sarà pre-moltiplicata da quella quantità che abbiamo visto nel video relativo allo smorzamento esteretico, che è 1 più J per ETA. Perché abbiamo, sostanzialmente, che è come se noi avessimo portato in evidenza la matrice delle K, all'interno delle parentesi tonde che vedremo, quindi all'interno, qui, davanti qui, sarà pre-moltiplicato quello che è 1 più J, ETA. Quindi, sostanzialmente, è come se qui dentro, a posto, diciamo, di questo ETA, c'era anche la matrice della rigidezza dovuta allo smorzamento, cioè quella ω per B. Quindi, H diviso K, vi ricordo sempre che è uguale a ETA, e questo ETA, altro non è che la tangente della fase della rigidezza complessa. Perché la rigidezza complessa è, sostanzialmente, espressa come K più J per H. Quindi questa è una rigidezza complessa, dove questo H, come vi dicevo prima, è ω per B, cioè dipende dallo smorzamento B. Quindi, andiamo quindi a vedere l'analisi modale che cosa, appunto, ci dice, come già ci siamo lasciati l'altra volta. Noi andiamo a prendere, sostanzialmente, questa posizione che vedete. Quindi, la nostra equazione è un'equazione del tipo, già avendo posta o là in a priori che cosa, già io adesso darò per scontato che faremo sempre la posizione armonica, cioè la X grande, scusate, la X dipendente dal tempo, faremo sempre conto che la posizione che è X dipendente dal tempo, si esprime come una X grande dipendente da ω, che è uguale, moltiplicata, una EJω di T, e che anche la nostra forza, la nostra forzante F e T, che è rappresentata da un vettore, sarà data da una forza F per EJω di T. Il discorso di EJ elevato alla geometria di T l'abbiamo fatto già nel video scorso. Quindi, la nostra equazione, prendendo questa posizione, cioè, prendendo che noi abbiamo M moltiplicato un vettore X due punti di T, più, adesso ci mettiamo lo smorzamento isteretico, quindi 1 più J per ETA, moltiplicata la matrice di rigidezza K, moltiplicata a sua volta per la X, quindi lo spostamento X, è uguale, sostanzialmente, a una forza antedipendente dal tempo F di T. Trasportando tutto nel dominio delle frequenze, quindi utilizzando la soluzione armonica, questa sarà sicuramente scritta come meno ω al quadrato, matrice di massa M, per X grande, fatemi scrivere adesso così X grande, porteremo poi in evidenza EJω di T, più 1 più J per ETA, per K moltiplicato la X grande, tutto questo, appunto, portando in evidenza EJω di T, e di qua possiamo scriverci il vettore F, se volete questo possiamo chiamarlo F0, inteso come modulo della forza, che moltiplica EJω di T. Ora, se andiamo a semplificare questo EJω di T per questo EJω di T da quest'altra parte, allora ci rimarrà l'equazione per cui meno ω al quadrato M X grande, più 1 più J per ETA, per la matrice di rigidezza K, per X grande, uguale al vettore delle forze modulo F con 0. Ora, la posizione che noi dobbiamo fare è quella di dirci che X grande è uguale, cioè il vettore delle X di ω, adesso io qui evito sempre di mettere X di ω, X di ω per non appesentire la scrittura, ma quello sappiamo che una X di ω perché dipenderà dall'ampli, cioè l'amplitude dipenderà dalla frequenza, dall'ome che l'abbiamo visto, non nello scorso video, quindi la X grande di ω sarà uguale a una matrice FI per un vettore ETA. Allora, la matrice FI è la matrice che abbiamo chiamato, o che chiameremo in MATLAB o in MATCAD, come la matrice degli autovettori, mentre per ETA intendiamo una coordinata generalizzata, ovviamente diversa da X, cioè questa ci permette di fare un cambio di riferimento, cioè noi stiamo passando da un riferimento X di ω a un riferimento ETA, se volete, di ω, ma dove in questo ETA queste coordinate ci permetteranno appunto di andare a disaccoppiare il nostro sistema. Cioè, come vedete, noi una volta che questa equazione che noi abbiamo qui sopra, adesso la dobbiamo particolarizzare in ETA, quindi noi risolveremo per ETA, una volta che abbiamo risolto per ETA, possiamo benissimamente tornare indietro ad X. Se volete, questa FI rappresenta un pochino la matrice di trasferimento, perciò dico cambio di sistema di riferimento, perché ci permette di passare dal sistema ETA al sistema X, premoltiplicando questa matrice FI, che è la matrice degli autovettori, per il vettore ETA, che sono le nostre nuove coordinata generalizzate. Ok, quindi, noi risolvendo questa equazione in ETA, una volta che l'abbiamo risolta in ETA, avremo disaccoppiato i nostri modi, quindi, nell'esempio che abbiamo fatto, il moto a due DOF, quindi con due masse, ma vi ripeto, la cosa si generalizza, dopo cercheremo di vedere un esercizio per tre masse, quindi diverso da quello che abbiamo fatto sul video, quindi ha maggior ragione che le cose si possono fare per NDOF. Quindi, la nostra idea principale, l'utilizzo dell'analisi modale, è disaccoppiare le masse, quindi studiarle come se fossero singolarmente, quindi studiare modo per modo. Il modo 1 è citato alla sua frequenza naturale, il modo 2 è citato alla sua frequenza naturale, il modo 3 è citato alla sua frequenza naturale. Cioè, il nostro obiettivo è di ottenere sostanzialmente ETA, in funzione di ω, e di vedere tante, diciamo, curve a campana, tutte diverse tra di loro. Nel caso dell'esercizio che ho fatto io con tre DOF, ne vedremo tre curve diverse a campana, ognuno relativa alla singola massa disaccoppiata, ognuno relativa al proprio modo. Quindi, questi qui sono una cascata di sistemi a UNDOF smorzati, perché adesso ci stiamo mettendo anche lo smorzamento isteretico. Quindi, una cascata di 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40 modi a UNDOF smorzati, dipende da quanti gradi di libertà abbiamo, che, appunto, possiamo esaminare ognuno alla sua frequenza naturale. Ovviamente, ETA di per sé non è uno spostamento, ok? Cioè, noi quando andiamo a prendere ETA, fisicamente ETA non ha un senso, ok? Non ha, diciamo, il senso degli spostamenti, solo che noi forzeremo un pochino questa cosa per dire guarda che ETA potrebbe essere uno smorzamento, ma la sarebbe solo se la forza arrivasse sulla struttura ad una certa omega tutta quanta in assenza di smorzamento. Dato che noi mettiamo lo smorzamento, questo non avviene, ok? Quindi, quella nostra equazione, se andiamo a sostituire la posizione X uguale a matrice FI per ETA, diviene meno omega al quadrato, matrice M, quindi matrice delle masse, la X grande, abbiamo detto, si scriverà come FI per il vettore ETA, poi abbiamo più 1 più J per ETA, che moltiplica la matrice K, che moltiplica adesso FI per il vettore ETA, e da questa parte rimane il vettore F0 normale. Adesso il nostro scopo è quello di andare a sfruttare il principio di ortogonalità dei modi propri. Noi sappiamo che la matrice degli autovettori è una matrice ortonormale, cioè è una base ortonormale dello spazio vettoriale che essi vanno a delineare. Quindi ciò significa anche che proprietà di una matrice ortogonale, l'abbiamo detto lo scorso video, una matrice ortogonale, quando io vado a farmi il prodotto righe per colonna della matrice A per la sua trasposta, mi deve restituire la matrice identica. Ok? Da questo è possibile dimostrare che se io qui vado a premoltiplicare per A-1, e quindi A-1 per A mi dà la matrice identica, se io l'ho premoltiplicata di qua, la devo anche premoltiplicare da questa parte, però adesso lo spazio non c'è, quindi lasciatemi anche scrivere questo, quindi I per la matrice A trasposta sarà uguale a A-1 per la matrice I. Quindi, la seconda proprietà, questa è la prima proprietà delle matrici ortogonali, è questa, ovvero che il prodotto di A per A per T, o al contrario, A per T per A, dà la matrice identica, e la seconda proprietà, invece, è questa qui, ovvero che la trasposta della matrice coincide con la sua inversa. Quindi significa che io quando vado a fare il fi trasposto e facessi il prodotto di fi per fi trasposto, ottengo esattamente la matrice identica. Questo è quello che vedevamo, ad esempio, nell'esercizio che abbiamo fatto dove compariva quella sommatoria quando abbiamo dovuto particolarizzare gli spostamenti per una trave doppiamente incastrata. No, noi là abbiamo visto che c'era un integrale, ad esempio, che andava da 0 a L in dx del prodotto di due seni, di cui quei due seni abbiamo detto erano i modi di vibrare la struttura. E ci siamo detti anche che nel momento in cui il fi r per fi con s, rappresentativi di questi due seni, con r uguale a s, l'integrale ci restituiva un mezzo. Qui in questo caso, per la proprietà di ortogonialità delle matrici, ci dice che quando i due modi sono uguali, quindi fi per fi trasposto, ci dà sostanzialmente la matrice identica stavolta e oltretutto la fi trasposto, cioè la matrice degli autovettori trasposta, è esattamente uguale alla sua inversa. Ok? Quindi riusciamo a tirare fuori questa proprietà per gli autovettori. è una matrice ortogonale, perché fi per fi trasposto è la matrice identica, è una matrice per cui la sua trasposta coinciderà con la sua inversa. Queste, diciamo, sono semplici regole derivanti da geometria e algebra. Quindi noi che cosa facciamo? Vogliamo sfruttare il principio dei modi poteri, quindi andiamo a premoltiplicare tutte le matrici, tutte le matrici che vedete sopra, per una fi di t. Quindi qui sarà fi trasposto per la matrice di massa m per fi. E quindi abbiamo il primo blocco, ovviamente, moltiplicato il vettore eta. Più 1 più j per eta, qui andiamo a premoltiplicare. Adesso lasciatemi scrivere, per semplicità di notazione, altrimenti ce lo portiamo appresso sempre, che il prodotto, questo prodotto qui, 1 più j per eta per k, sarà ancora una matrice, no? Chiamiamola matrice k' cioè è la matrice comprensiva già dello smorzamento isteretico. Quindi così qua ci alleggeriamo la notazione e ci verrà fi trasposto che moltiplica k' per fi per eta e qui quindi sarà, se abbiamo premoltiplicato tutto il left hand side per fi trasposto, anche il right hand side deve essere moltiplicato per fi trasposto e qui abbiamo quindi il vettore F0. Quindi ricordiamo che abbiamo fatto la posizione per cui il prodotto di 1 più j per eta per k è una matrice k' cioè è comprensiva già dello smorzamento messo all'interno, ok? Quindi ci si presenta una cosa, del genere. Ora abbiamo, diciamo, quasi finito sostanzialmente perché siamo arrivati a quello che volevamo. Allora, notiamo questo primo sostanzialmente blocco e poi noteremo questo secondo blocco. Il primo blocco, cioè 1, quello dato da fi trasposto per la massa m per fi viene detta appunto matrice di massa generalizzata. Come vedete ho fatto un simbolo, diciamo, ho messo delle lineette sopra, mg in mezzo e un'altra lineetta sopra. Questo perché sarà sostanzialmente questa una matrice diagonale, cioè presenterà solo dei numeri sulla diagonale principale fuori, diciamo, la matrice e qui avremo tutti zero, ok? Fuori dalla diagonale. Quindi tutti zero. Quindi questo è già un sintomo, ma la massa lo era già, fra virgolette, nell'esempio che abbiamo fatto prima, una matrice di massa disaccoppiata perché abbiamo visto che le masse si disponevano tutte sulla diagonale principale anche in presenza dell'accoppiamento, della molla di accoppiamento. Quindi a maggior ragione continua ancora ad essere vero il fatto che le masse risultano disaccoppiate perché solo lungo la diagonale principale troviamo dei numeri esternamente, cioè fuori dalla diagonale, quelle che rappresenterebbero, diciamo, i coefficienti, passatemi il termine, di accoppiamento, non ci sono. Quindi è tutto zero. Quindi è disaccoppiata dal punto di vista della massa. Ma adesso invece che cosa succederà, secondo voi, alla matrice di rigidezza? Cioè a quel secondo bloc, cioè fi trasposto per k' per fi, questo appunto diventerà anch'essa una matrice chiamata kg che è una matrice diagonale e viene chiamata matrice della rigidezza generalizzata. Cioè in questo caso noi abbiamo finalmente disaccoppiato il nostro sistema perché anche questa matrice sarà una matrice sulla cui diagonale ci sono dei numeri e fuori diagonale ci sono dei di zero. ma fuori diagonale precedentemente abbiamo visto che questa matrice della rigidezza presentava un accoppiamento al di là che ci fosse o non ci fosse lo smorzamento. Cioè era un accoppiamento dato da k2, meno k2, meno k2, no? Che erano le rigidezze, la rigidezza di accoppiamento. Qua era una sola perché il sistema 2 DOF se facciamo un sistema 3 DOF le rigidezze di accoppiamento sono 2, no? Vi trovate, sarà la massa 2, la massa 1, la massa 2 e la massa 3. La massa 1 e 2 sono accoppiate da una rigidezza, la massa 2 e 3 sono accoppiate da una seconda rigidezza e ovviamente non contiamo quest'altra rigidezza che sta attaccato all'incastro. Ok? Quindi sostanzialmente il nostro scopo è raggiunto perché abbiamo finalmente disaccoppiato la parte, diciamo, relativa all'accoppiamento. Cioè l'accoppiamento strutturale è dato da questa matrice k che poi impareremo a dire che è una matrice di rigidezza statica che si differenzierà da altri tipi di matrici di rigidezza. Questa matrice qui è disaccoppiata perché fuori diagonale non ci sono più numeri, cioè c'è 0. Ci sono solo i numeri lungo la diagonale principale quindi è come se fosse la rigidezza 1, 2 e 3. Basta. Quindi è la rigidezza per ogni massa. Quindi la rigidezza per la massa 1, la rigidezza per la massa 2 e la rigidezza per la massa 3. Ok? Quindi abbiamo visto questo però poi abbiamo visto anche, diciamo, dalla formula che ci siamo riusciti a scrivere che c'era quel fi trasposto eccolo lì, fi trasposto cioè indico questa fi trasposto per il modulo f0, vettore modulo f0. Quindi che cos'è quel fi trasposto per f0? Questo viene detto lavoro generalizzato. È un vettore perché voi qua state moltiplicando una matrice per un vettore. Ok? Quando vado a moltiplicare una matrice per un vettore abbiamo il decremento dell'ordine di una unità quindi si passa da tensore a vettore sostanzialmente. Quindi questo è il lavoro generalizzato. Perché? Proprio per quello che vi dicevo io. Se noi andassimo a leggere questi sostanzialmente questi modi di vibrare questi fi di t come se fossero degli spostamenti. Ok? Come se nelle colonne di in questo caso avremmo le righe sostanzialmente perché i modi erano messi per colonne trasposte adesso sono diventati righe. Quindi se noi andassimo a leggere le righe di questa matrice come degli spostamenti allora quello sarebbe una forza per uno spostamento. La forza per uno spostamento è per definizione un lavoro. Ma abbiamo detto che questa come eta non sono degli spostamenti. In generale quello che noi troviamo nei modi di vibrare quindi lungo le colonne sarebbero gli spostamenti che si avrebbero se tutta la forza concentrata a quella certa omega arrivasse senza lo smorzamento. Quindi questa qui questo terzo blocco fi di t per fi con zero con una forzatura possiamo dire che è parente a un lavoro e questo lavoro è generalizzato. Ora se ci fate caso tutta questa nomenclatura è molto simile a quando abbiamo detto massa generalizzata rigidezza generalizzata perché effettivamente questo è nel discreto vedete quando compaiono le matrice noi stiamo quindi ragionando per punti abbiamo la comparsa di matrici stiamo lavorando nel finite element method non ci sono più gli integrali e quindi queste diventano quelle che nel continuo noi facevamo con gli integrali. Quando abbiamo fatto ad esempio l'esercizio sulla trave abbiamo detto la massa generalizzata della trave si calcola come rho per a per l'integrale da 0 l di fi con r per fi con s in dx ponendoci nel caso in cui r è uguale a s se no altrimenti questo integrale esce 0 questo che noi abbiamo fatto qui questo è nel continuo mentre quello che vedete qui nella massa generalizzata qui è nel discreto ok e ora come vedete se la massa generalizzata qui dipende da una costante di normalizzazione che dobbiamo decidere noi qui invece dipenderà sostanzialmente dai modi di vibrare e conseguentemente questi modi di vibrare influenzano anche la kg cioè la rigidezza generalizzata qui invece la kg era influenzata dalla scelta della costante di normalizzazione cioè noi qua kg l'avevamo come ω n al quadrato per mg ok c'è scelta mg quindi scelta la costante di normalizzazione di mg kg dipendeva da mg e quindi sostanzialmente dalla costante di normalizzazione che avevamo perché la ω con n è una ω con n fissata ok il nostro sistema ha quella frequenza naturale e quindi questo è già una primissima differenza oltre al fatto che abbiamo disaccoppiato il nostro sistema quindi quella equazione noi possiamo in generale scrivercela come meno ω al quadrato per massa generalizzata la matrice della massa generalizzata moltiplicata sostanzialmente quel vettore eta più la massa kg scusate la matrice kg di energie generalizzata per eta dove adesso k in kg c'è presente già lo smorzamento perché noi abbiamo fatto fi trasposto per k' per fi dove in k' c'era lo smorzamento è uguale a un lavoro generalizzato ok come vedete questa è esattamente la stessa equazione che potremmo fare per un sistema n dov a partire dalla matrice di massa e dalla matrice di rigidezza in cui è presente già lo smorzamento quindi adesso qua devo semplicemente andare a lavorare per eta cioè porto in evidenza eta il vettore eta non devo andare a studiare i modi propri eccetera eccetera non c'è bisogno perché già li abbiamo trovati i modi propri stanno nella matrice fi quindi qui sarà che cosa il vettore l con g del lavoro generalizzato per 1 su matrice di rigidezza generalizzata comprensiva dello smorzamento meno omega 4 per la massa generalizzata quindi matrice di massa generalizzata quindi se volete ancora una volta questa qui è detta anche matrice h di omega generalizzata quindi è la frequency response function generalizzata e ora qui che particolarità avrà questa matrice è che la matrice h di omega generalizzata sarà anch'essa una matrice del tutto diagonale ed è questo che ci spiega il fatto che con eta noi riusciamo a vedere quella cosa che ho detto all'inizio del video cioè quando io mi pongo eta rispetto ad omega vedo una prima curva che fa così poi una curva che fa così e una terza curva che fa così proprio perché questa h di omega qui ci sarà l'h di omega della prima massa passatevi il termine quindi relativa al solo primo modo qui al solo secondo e qui solo al terzo fuori diagonale è tutto zero perché questa diventa anch'essa una matrice diagonale quindi sostanzialmente questo fatto che appunto noi riusciamo a vedere queste tre curve separate grazie a questa cosa qui dove all'interno di questa cosa qui h di omega di g dipende da matrici generalizzate diagonali quindi per un concetto di linearità se tutte le matrici che stanno in h di omega sono generalizzate diagonali anche h di omega sarà una matrice generalizzata e anche essa diagonale e questo ci porta al disaccoppiamento anche delle frequency response function e a vedere questo grafico in questa maniera ok questa è la spiegazione principale una volta che abbiamo risolto in età come vi dicevo possiamo ritornare indietro alla x di omega quindi alla x di omega facendo semplicemente phi per eta ok quindi in questa maniera possiamo ritornare all'indietro è chiaro che io posso anche scegliere non devo per forza magari scegliere tutti i modi che sono presenti nella phi in questa phi cioè io posso andarmi a prendere anche un numero di modi se io chiamo con ng il numero di gradi di libertà e con nm il numero di modi che voglio scegliere in genere posso scegliere anche un ng ovviamente che è maggiore di nm cioè prendere un numero di modi minore di ng ok quindi io con questa cosa qui posso andare ad estrarre cioè che cosa avrò avrò una matrice phi formata sostanzialmente da immaginiamo di andare a scegliere di una diciamo di un sistema 3 doff solo i primi due modi quindi avrò ng per nm per nm cioè le colonne saranno le righe saranno sempre tre perché ho sempre tre masse ok però i modi sono noi abbiamo detto le colonne quindi scegliamo le nm colonne due colonne quindi qui sarà una matrice ng per nm che è più piccola della matrice ng per ng quindi se la matrice ng per ng era di 9 adesso sarà 3 per 2 quindi 6 e quindi anche il vettore eta qui dovrà uniformarsi quindi sarà di nm per 1 ok quindi sarà un vettore eta costituito da nel caso ad esempio che abbiamo fatto che abbiamo scelto nm uguale a 2 a partire da ng uguale a 3 sarà un vettore formato sostanzialmente da due componenti io quando vado a fare il prodotto qui fi per nm mi viene appunto un che cosa viene un vettore chiamiamolo eta' giusto per intenderci mi viene un vettore ng per 1 ok mi viene un vettore 3 per 1 ovvero di 3 componenti ciascuna relativa a quel modo di vibrare che abbiamo scelto quindi hai i due modi di vibrare che abbiamo scelto avremmo le tre componenti relative ai solo due modi che abbiamo deciso di estrarre e questo è vantaggioso perché ovviamente non in questo caso in cui ng è uguale a 3 ma immaginate in cui ng è uguale a 100 3 oppure numeri molto molto grandi di gradi di libertà noi possiamo andare a estrarre solo quei modi che ci interessa vedere o che appunto danno un'influenza alla nostra risposta e questo va a tutto vantaggio del costo computazionale perché io qui ottengo una matrice più piccola se io ad esempio c'è ng che è uguale a 100 da una 100% posso passare tanto per dire a una 100 per 3 quindi da una 100% quindi 10 alla quarta di ordine 10 alla quarta passo a 100 per 3 di ordine 10 alla seconda quindi 300 quindi avete sostanzialmente cioè avete fatto la radice quadrata dell'ordine di grandezza quindi due ordini di grandezza inferiore siete scesi a due ordini di grandezza inferiore e questo dal punto di vista del costo computazionale è molto diciamo positivo ok questo è per quanto riguarda l'analisi modale ovviamente poi nei prossimi video andremo a particolarizzare con altre diciamo cose importanti che ci servirà a sapere però ad esempio adesso guardiamo appunto l'esercizio che vi volevo far vedere io qui l'ho ancora fatto ovviamente su matgad ma si può fare benissimamente anche su matlab potete replicare cambiare le rigidezze ad esempio qui ho scelto una massa che è tre masse quindi abbiamo un sistema a 3 DOF tre masse tutte di un chilo tutte e tre sono collegate con una rigidezza K1 10 alla quinta Nm quindi 100.000 Nm anche K2 e anche K3 il loss factor quindi ETA è sostanzialmente 0.02 lo smorzamento quindi vedete la massa la matrice di massa ha già di per sé una matrice diagonale sulla cui diagonale c'è la massa del primo carrello seconda e del terzo come vedete qui in matgad posso anche vedere diciamo l'estratto di questa matrice con la unità di misura kg quindi 1 1 1 la matrice di rigidezza la matrice di rigidezza in questo caso è formata da K1 più K2 meno K2 meno K2 K2 più K3 meno K3 meno K3 K3 vedete qui dove si sommano le rigidezze non è la parte di accoppiamento la parte di accoppiamento è data da meno K2 meno K2 che è la rigidezza di accoppiamento tra la massa 2 e la massa 1 e meno K3 meno K3 sarà la rigidezza di accoppiamento tra la massa 3 e la massa 2 come assemblare questa matrice delle rigidezze è stata già riportata nella mia playlist di meccanica razionale uno degli ultimi video c'è proprio scritto assemblaggio della matrice di rigidezza dove viene fatto appunto un esempio di come assemblare in maniera molto rapida le matrici di rigidezza oppure c'è anche un video relativo a un esercizio fatto su MATLAB dove lì anche spiego c'è un esercizio molto simile però è fatto a due DOF dove appunto spiego come andare ad assemblare una matrice di rigidezza sostanzialmente voi dovete considerare un pochino appunto il fatto di quali sono i nodi che vengono collegati tra di loro comunque vi rimando a quei video per abbreviare questo diciamo il senso di questo video non è adesso spiegare come assemblare le matrici di rigidezza e quindi qui abbiamo la matrice di rigidezza kg su secondo al quadrato ho già spiegato questo sarebbe ad indicare newton su metri ok? perché è come se avesse diviso per un metro metro a sinistra è un metro cioè kg per metro su secondo al quadrato uguale newton diviso metri è kg su secondo al quadrato uguale newton su metro ok? questo fa fa matcad vedete che io la matrice k l'ho premoltiplicata per 1 più i per eta quindi direttamente per quel fattore che mi dà lo smorzamento e qui mi sono creato invece la matrice a che è data sostanzialmente dalla inversa di m per k la matrice m abbiamo detto che appunto è invertibile k è la matrice già con lo smorzamento e quindi questa è la nostra matrice a 1 su secondi al quadrato ok? però diciamo sostanzialmente questa perché voi la dovete intendere come se prendete m e k come decofficiente è come se fosse k su m che è uguale a omega con n al quadrato che è radianti su secondi al quadrato ok? ora perché mi sono creato questa matrice a proprio perché per come ci siamo detti nel video scorso io devo andare sostanzialmente a ricavare le frequenze naturali quindi se io mi metto nello splittato mi sono posto in questa situazione qui dove già ho fatto la posizione armonica e mi trovo davanti a meno omega quadrato per i più m a meno 1 per k io per andare a valutare gli autovalori cioè il determinante della matrice m a meno 1 per k meno lambda per i deve essere uguale a 0 per determinare le mie omega con n quindi perciò qui faccio a meno 1 per k e qui vedete starting with again values problem cioè partiamo con il problema agli autovalori cioè andiamo a calcolare gli autovalori di questa matrice che con matgad è possibile fare attraverso questo comando again values di a oppure in matlab sarebbe ag a balance ok a sinistra metterete v in una parentesi quadra v virgola d uguale ag di a balance così calcolerete in un colpo solo la matrice diagonale e la matrice diagonalizzante come vedete qui ovviamente abbiamo gli autovalori vedete che sono complessi questi sono valori complessi proprio perché esiste lo smorzamento isteretico che butta la complessità dal punto di vista dei numeri ecco numeri complessi in tutte diciamo le nostre soluzioni e diciamo al di là adesso non vi spiegherò più di tanto come fra virgolette lavora matgad andiamo a vedere più il sodo della cosa vi ripeto matgad si possono fare possiamo fare una playlist a chi interessa facciamo dei video e vediamo tutte queste cose da dove escono quindi passatemi di andare oltre senza spiegare quello che succede tranne le cose più ovvie ad esempio re e im sta per reale immaginario di lambda cioè io qui adesso appunto vado a dividere un momento la parte reale da quella immaginaria qui la nostra soluzione se vi ricordate dal video dello smorzamento isteretico è una soluzione adesso la scrivo qua è del tipo omega a quadrato grande sarà omega con n a quadrato per 1 più j per eta ok dove adesso questo omega a quadrato sarebbe sostanzialmente il mio lambda quindi lambda e omega con n a quadrato 1 più j per eta ok quindi la parte reale sono le omega con n elevata al quadrato la parte immaginaria cioè omega con n a quadrato per eta rappresenterebbe il prodotto dello smorzamento modale per omega con n a quadrato quindi io mi separo la parte reale da quella immaginaria proprio per andare a fare questo vado a ordinare le frequenze naturali ovviamente perché vado a ordinare come diciamo come da prassi diciamo come da convenzione si ordinano le frequenze naturali dalla più piccola alla più grande quindi ordino la parte reale di gamma grande che sarebbe la prima colonna la seconda colonna di gamma grande invece mi rappresenta rapportata alla prima colonna quindi quando io faccio omega con n al quadrato per eta diviso omega con n al quadrato sto sostanzialmente andando a fare parte immaginaria diviso parte reale quindi questa è la parte immaginaria questa è la parte reale sto facendo parte immaginaria diviso la parte reale qui e vado appunto ad ottenere lo smorzamento modale e ovviamente come mi dovevo aspettare se ho messo eta costante 0.02 lo smorzamento modale eta con s è esattamente 0.02 0.02 a tutte e tre su tutte e tre le masse poi qui io mi creo la matrice diagonale perché matgad non è come matlab che crea direttamente la matrice diagonalizzante e qui mi creo quindi la matrice diagonalizzante facendogli la diagonale degli autovalori ma come vedete questa è una matrice diagonale fra virgolette non ordinata perché l'ultimo autovalore cioè il più piccolo sta come terzo il secondo autovalore si trova fortunatamente come secondo ma il terzo autovalore viene riportato come primo allora e anche ovviamente questa di sotto quello che vedete di sotto è invece phi con Egenbex di A è la matrice degli autovettori quindi ciò significa che associato al primo autovalore che poi dovrebbe essere la terza frequenza perché 569.823 corrisponde a questo autovalore qua la cui parte reale la radice quadrata di questo numero 3.24 è questo numero qui quindi il primo autovalore corrisponde a questo primo autovettore colonna vettore colonna il secondo autovalore corrisponde a quest'altra colonna e il terzo autovalore corrisponde alla terza colonna però noi adesso l'abbiamo flippata perché abbiamo messo per convenzione che la omega con n quindi le parti reali visto che a noi interessa anche di phi vedete che phi è complesso sono degli autovalori complessi ma in verità a noi non serve la parte complessa degli autovalori quindi serve la parte reale di questi autovalori conseguentemente se noi guardiamo solo alla parte reale anche della D della matrice D allora dobbiamo appunto organizzare in modo tale che questa sia qui la seconda rimane qui e questa grande deve andare come terza frequenza perché è la più grande e allora è quello che faccio in questo ultimo passaggio qui dove appunto adesso vedete mi organizzo per mettere in come prima riga la terza riga come prima colonna la terza colonna di quella matrice phi e così via come ci siamo detti prima quindi ottengo una nuova matrice degli autovettori B anche MATLAB non ve l'ha sistemata diciamo e la dovreste sistemare voi e quindi vedete che la prima colonna corrisponde sostanzialmente a questo autovettore qui cioè il terzo autovettore che sta nella matrice D la seconda alla seconda colonna quindi all'autovettore presente in seconda riga seconda colonna e la terza colonna quindi il terzo modo di vibrare corrisponde al primo autovettore che vedete in questa matrice D qui è stato fatto appunto una una tecnica di riordinamento in modo tale da vedere i modi di vibrare crescenti in frequenza questa è per la prima frequenza naturale la seconda e questa è la terza quindi al variare di E della frequenza naturale più grande diventa più questi modi ecco già qui possiamo vedere una cosa quel discorso che vi dicevo io poi lo vediamo in un grafico vedete che qui questa è la prima colonna seconda e terza quindi abbiamo detto che sono i tre modi di vibrare nella prima colonna tutte le componenti sono positive cioè hanno segno concorde quindi vuol dire che ci dobbiamo aspettare che nel primo modo di vibrare e citando il primo modo di vibrare le tre masse si muovono tutte in fase alla seconda invece due sono concorde e uno è discord che significa che massa 1 e massa 2 quindi la massa 1 e la massa 2 si muoveranno in fase mentre la massa 3 rispetto alle altre due si muoverà in contrapposizione di fase ed è l'esempio che ho fatto io in questo script nel terzo modo di vibrare invece abbiamo che due masse sono in fase saranno la prima e la terza perché il loro segno è concorde anche se è negativo ma è concorde però la seconda massa è segno discord rispetto alle altre due allora significa che la massa 1 e 3 si muoveranno in fase ma la massa 2 rispetto a 1 e 3 si muoverà in opposizione di fase quindi questo è quello che vi dicevo nel video scorso e qui abbiamo l'applicazione della forza 2 di modulo 2 N di tipo cosinusitale o sinusitale come volete il ciclo delle omega a partire da 0 per un passo dato da omega con n1 1 diviso 50 fino a una volta e mezza di omega con n3 c'è la terza frequenza naturale come vedete qui abbiamo la risposta del primo modo secondo modo e terzo modo che è la direct frequency response quindi vediamo sostanzialmente questi tre picchi della curva blu da qualche parte le curve si sovrastano quasi abbiamo la eccitazione delle frequenze naturali quindi la prima frequenza naturale la seconda e la terza dove invece vediamo queste specie di gole queste gole sono relative al fatto che per quel dato modo la nostra forza è come se fosse giunta in un nodo del modo cioè che significa quando io giungo nel nodo del modo e metto una forza proprio nel nodo cioè la forza è come se capitasse nel nodo io non sono più in grado di trasferire energia in quel nodo perché appunto quel nodo un nodo è per definizione un punto della struttura che non partecipa a spostamenti e oscillazioni ora se ritornate alla mente a quello che abbiamo detto noi cioè prendiamo le colonne di fi di questo dato vettore come se fossero degli spostamenti nella parte modale è come se noi stessimo dicendo che se quel nodo non si sposta io sto applicando su un punto che non si sposta quindi è f per 0 cioè il lavoro è nullo il lavoro è generalizzato nullo e quindi vedo questo picco che va in basso per ordine anche di 10 alla meno 9 questo ci testimonia che non ci sta spostamento in quel punto però da qui non possiamo vedere nient'altro che questo cioè le frequenze naturali non possiamo dire se le masse si stanno muovendo in fase in controfase se non facciamo quel discorso di prima e se non vediamo appunto l'analisi modale qui ci siamo riportati nel dominio del tempo semplicemente io ho preso appunto per le tre masse mi sono fatto tre funzioni è la parte reale perché sto prendendo e j omega di t quindi coseno sedale la parte reale di queste tre risposte vedete x dipende da omega la x grande e qui mi sono fatto ad esempio vedete mi sembra la seconda frequenza naturale sì perché abbiamo detto che facevamo l'esempio sulla però 394.33 come vedete è la omega con n al secondo posto di omega con n vedete qui 394.33 quindi questo significa che qui ci viene detto quello che ci aspettavamo che a quella frequenza naturale quindi del secondo modo di vibrare essendo che le due masse 1 e 2 si devono muovere in fase vedete i segni di metri di queste distanze in metri sono positive e questo invece è discordo rispetto alle altre due e ancora meglio ci possiamo vedere nel grafico a fianco la massa verde sarebbe la massa 3 e la blu è la 1 e la 2 è la rossa la blu e la rossa vedete sono al di là del picco più grande e più piccolo e della pendenza che ci sta qui ad esempio a dire vedete qui la pendenza è più grande rispetto a quella rossa quindi vuol dire che qui la velocità di questa massa è più grande rispetto a quella della rossa in questo intervallo di tempo al di là di queste cose vediamo che la blu e la rossa si muovono in fase ok sono esattamente fasate fasate non sfasate fasate se abbiamo andiamo a considerare la curvata verde invece vediamo che questa si muove in contrapposizione ed è opposta di fase vedete se potete pure fare l'esempio con la blu e la verde vedete mentre la blu sale la verde scende cioè esattamente sfasata di pi greco se volete di una quantità pari a pi greco e questo ci testimonia che nel secondo modo di vibrare due masse sono in fase e una in controfase e ce ne siamo accorti semplicemente facendo l'analisi vedete di questa colonna qui la terza massa è sfasata rispetto alle prime due quindi questo è il grafico non c'è nulla da aggiungere sotto abbiamo invece l'analisi modale vera e propria vedete massa generalizzata fi di risposto per m per fi e come vedete abbiamo tutti uno che sono le masse delle nostre ok non vi lasciate ingannare che sulla diagonale abbiamo per 10 alla meno 17 significa 0 eh tutte dalle parti qui di 10 alla meno 17 vuol dire un numero cioè 0 non è che è molto è 0 ovviamente nei codici di calcolo a volte non viene dato proprio il 0 pieno come anche sulla matrice Kg vedete sempre come fi di t k per fi anche sulla diagonale principale ci sono dei numeri complessi perché questa è una matrice di rigidezza complessa ma fuori diagonale abbiamo ordini di 10 alla meno 11 meno 13 meno 12 meno 11 qui sotto abbiamo meno 13 eccolo qui ok quindi sostanzialmente abbiamo 0 dei numeri complessi che sostanzialmente fuori diagonale sono 0 ok complessi o reali che sono 0 il lavoro generalizzato invece è fi trasposto per f qui ad esempio non aveva senso andare a estrarre un solo modo di vibrare quindi ho estratto praticamente tutto vedete le matrici fi trasposte rimangono dell'ordine 3 per 3 qua 3 per 3 3 per 3 3 per 3 così via e questa è la modal responsa è quella vedete quello che vi dicevo io prima n modal dipendente da omega si calcola esattamente come abbiamo calcolato la cosa prima kg cioè quello che abbiamo fatto qua per intenderci questa cosa qui eta uguale a lg per l'inversa di questa matrice perché kg meno omega quadrato per mg sarà poi una matrice che abbiamo detto che abbiamo detto che quella matrice sarà esattamente l'h di o questa qui tutta tra le parentesi quadre elevata a meno 1 è la matrice h di omega e quindi ecco l'analisi modale qui possiamo fare ad esempio il discorso dei singoli modi vedete ne abbiamo 3 masse 3 singoli modi trascata di ogni modo un doff e possiamo fare il discorso ad esempio dell'overlap cioè vedere questi modi quando si sovrappongono e cioè lo andiamo a vedere quando ad esempio la curva blu si intersega con la rossa quindi a questa frequenza i due modi saranno overlappati a quest'altra frequenza qui anche se ovviamente questo modo vedete qui sta andando verso 10 alla meno 6 quindi vuol dire via via non c'è più movimento non c'è più oscillazione qui quindi dove c'è questa specie di overlap alla fine è come se non ci fosse cioè il modo possiamo dire che il modo 3 sta incominciando a crescere mentre quello 1 sta andando a morire mentre qui c'è l'overlap tra il modo 2 e il modo 3 cioè entrambi i modi partecipano con la stessa aliquota di energia possiamo vedere anche la distanza tra le frequenze naturali dei modi vedete che la distanza tra la frequenza naturale del primo modo la omega gesima rispetto alla omega cappesima qui è una distanza molto più grande ok quindi se noi prendiamo parità di smorzamento l'altra volta vi dissi che effettivamente noi l'overlap lo valviamo anche come omega con j meno omega con k questa distanza tra i due modi tra le due frequenze naturali deve essere minore di delta j meno delta k mezzi se delta j me lo scrivo come eta j per omega con j e eta k per omega con k facendo il presupposto che eta è sempre lo stesso qui verrebbe eta omega con j meno omega con k mezzi quindi l'overlap è guidato adesso sostanzialmente dalla distanza delle due frequenze quindi come vedete la prima frequenza naturale del primo modo rispetto alla seconda hanno una distanza molto più grande cioè questa distanza qui sarà sicuramente molto più grande della semidistanza ok quindi è chiaro che questi due modi non saranno mai in overlap mentre se vado a fare il confronto ovviamente qua si dovrebbe fare diciamo ad occhio potrebbe essere se vado a fare il confronto tra questa omega qui la seconda e la terza risulterebbero con diciamo un overlap più spin cioè un overlap che sta tendendo cioè sono due modi che stanno tendendo al vero overlap anche se qui sono overlappati a questa frequenza perché ovviamente qui cosa guida l'overlap e la frequenza solo in questo punto saranno esattamente uguali però vedete che questi due modi sono più vicini tra di loro rispetto al modo 1 col modo 3 e il modo 1 col modo 2 quindi vuol dire che questi modi anche globalmente se vogliamo qui è diciamo come se fosse localmente cioè questa frequenza ma questa distanza qui come vedete corrisponde a questo calcoletto che potremmo fare qui ci dice che questi modi per quella eta che abbiamo sono molto sostanzialmente più vicini loro modo 2 e modo 3 sono molto più vicini loro che rispetto al modo 1 col modo 2 e il modo 1 col modo 3 quindi significa che il modo 2 e il modo 3 sono più propensi a scambiarsi energia tra di loro di quanto non riesco a fare il modo 1 con 2 e il modo 1 modo 1 con 3 ok proprio perché vediamo la distanza delle frequenze naturali molto più ridotta rispetto al gap che c'è tra questo e questo e tra questo e questo qui ok io detto questo credo che possiamo finire questo video qui e noi ci rivediamo per un prossimo video grazie a tutti